Sono numeri importanti quelli che racchiude al suo interno il progetto Unico Gran Sasso. 22 comuni del cratere sismico abruzzese, 3 province, quasi 1500 km2 e una popolazione di oltre 90.000 abitanti, ma ancora di più nasce con una visione progettuale condivisa e di lungo periodo sinora mai adottata. L'obiettivo del progetto è quello di rispondere alle esigenze delle aree interne attraverso l'associazione temporanea di scopo, come nuovo modello organizzativo a scala intercomunale, uno spazio di confronto, conoscenza e valorizzazione che attraverso l'assemblea dei sindaci, la cabina di regia e il coordinamento di area vasta migliora la governance del territorio e la sua visibilità. Unico perché il Gran Sasso è un'unica realtà dove molti territori, molti sindaci si sentono, come devo dire, attratti da questo strumento e quindi unico parte da questa posizione. 22 comuni che hanno raccolto la necessità di mettersi insieme, senza condizione di campanile, di banda di colore, insomma la verità che viene dal territorio e che vuole essere traslata in quei tavoli dove tanto si discute e spesse volte poi ci si incarta in attività burocratiche. Noi siamo pronti a mettere sul tavolo una serie di progettualità che abbiamo raccolto in ogni singolo comune. Questa mattina con noi ci saranno anche degli artisti mondiali di spessore perché poi penseremo pure come armonizzare questi progetti. L'obiettivo di unico non è solo intercettare le risorse, l'obiettivo di unico è far sì che queste risorse vengano messe a sistema nel rispetto di quanto dice l'Europa, di quanto dice il governo e di quanto dice la realtà del territorio. Perdiamo una cittadinanza giorno su giorno e ora è forse unico e ne è la dimostrazione che qualcuno ci metta le mani. Un tema cruciale questo, la riunione di oggi dei sindaci del cratere 2016 dà il via alla seconda gamba della ricostruzione, quella della rinascita economico-sociale. Abbiamo due strumenti formidabili a disposizione, conquistati con la legge di bilancio e con il PNRR. Il contratto istituzionale di sviluppo che va varato subito, entro il mese bisogna presentare i progetti, i comuni devono presentare i progetti e poi il fondo complementare per le aree colpite dal terremoto, sia il 2009 che il 2016, un miliardo e 800 milioni in sei anni che rappresenteranno una risorsa straordinaria per poter finanziare, sostenere progetti di sviluppo. Anche qui occorre dinamismo, occorre progettualità, occorrono progetti.